C'è un minuto per scendere a fare colazione! Tito slega tua sorella e scendete giù in cucina. Papà, mi dai una mano? No, ho da fare. Non muoversi, gli H. Giacca! Vado dieci giorni a Cuba con vostra zia Caterina. E noi con chi restiamo, scusa? Con papà. Con papà. E poi non so se hai capito che l'inferno ti aspetta. Tu non sei in grado di gestire tre figli da sole. L'inserimento funziona che un genitore resta qui con noi perché il bambino non è tranquillo. Posso andare? No! Ti dico che non ce la fa, mamma. Vai, datti un'affonata che andiamo. Non è facile per lui, più lavora tutto il giorno. Ma vorrei che tu ti fossi come un po' seduto. No, anzi, figuriamoci. Aiuto papà! Tito! Tito! Stavamo facendo un agguato. Ve la spaffate, eh? Che invidia! Allora, sui bambini fanno molto effetto coniglio, però magari su di lei... Bello. Sì. Hai idea di cosa pensano i suoi figli di lei? No! Aiuto! Carlo, vuoi che torni? No! Ma ti sono cresciuti i denti? No, è che ho sfumato alto il taglio dei capelli, ora c'è questo effetto di allungamento del viso. E la farina tutta matta. No, 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 no